Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef, e questo giro chiama Roblox E siamo tornati su Bloxpur ragazzi E' una serie che vi sta piacendo tantissimo La state supportando tantissimo Quindi ovviamente siamo tornati Con tantissime cose da fare Esattamente, tantissimi likes Perché oggi vi facciamo vedere la casa di Feriniki Che ha nerdato non so quante ore In questa settimana per farcela E' decisamente meglio della mia Infatti quest'oggi vediamo la sua Dopodiché ragazzi ci compriamo La macchina per davvero Perché un nostro consolino che si chiama Momi Ci ha donato un sacco di soldi E quindi ci possiamo permettere di comprarla Infatti è anche grazie a lui che ho fatto buona parte della mia casa Ci tengo tantissimo a ringraziare Comunque, iniziamo Quanti ce li ho? 40.000 Sì, sì Sono ricco Davvero tantissimo, ci ho dato tantissimi soldi E questa? Bella Allora smettila Smettila, ovviamente Addirittura a tuoi piani Che bella che è la tua casa Bisogna pagare, bisogna pagare per gli altri piani Quindi non sminuire il mio lavoro, ok? Ok Allora ci tengo anche a precisare che non è finita Perché tutto costa tantissimo Quindi vabbè Vabbè la finirò nei prossimi episodi Ti faccio vedere Faccio la suspense Quello che ho fatto finora Per ora non si sta vedendo la tua casa Ah non si vede? Ah non si vede? Rosa ovviamente Cosa vi aspetta? Vaste da me Tutta rosa Bellissimo Brava Ferenichi Brava Mi faccio gli applausi da sola Smettiamola Andiamo? Ti faccio da guida Perfetto Chiudi le porte, grazie Certo Questo è l'ingresso, giustamente Sì Vieni Molto bellino Ok La mia camera da letto Questa è completata Ok Guarda Ma Aspetta Vai Vai Stai pure imparando cose nuove Cos'hai scelto di suonare? Happy, funky O dramatic Funky? È bello, mi fa anche il concerto Il mio staff Bellissimo Sono bravo? Moltissimo Grazie È bellissima la batteria Comunque la voglio anche io Sì Io la suonavo È uno strumento che adoro Quindi non poteva mancare in camera mia Guardaci Insieme Bellina Bellina la camera Molto molto bellina E questa è la zona trucco Giustamente Non poteva mancare Mi trucco Mi piace truccarmi Quindi giustamente E poi guarda cosa ho messo nella libreria Ah Signor maialino Lo vedi? Oh no Non ci puoi interagire Però il signor maialino Ci si tratta bene Grazie ai soldi di momi Qui ci si tratta bene Capito? Bellino Molto molto bellino Mi piace come l'hai fatto Questi pianelle Sono fantastiche E poi c'è la parte della casa Che ancora non ho completato Però te la faccio vedere Qui ci sarà la sala da pranzo E qui il salottino Come vedi ci sono ancora le cose base Perché ancora non l'ho completata Molto molto bellina Però Sono molto soddisfatta Di quello che ho fatto Quindi sono molto contenta Complimenti È davvero Carinissima Allora Cosa vi faremo Vedere oggi? Prima di tutto Compreremo la macchina Come ho già detto Dopodiché vi faremo vedere Un nuovo lavoro Che è il cassiere Che sinceramente Ci è sembrato il più veloce E il più figo Per fare soldi Quindi ve la facciamo vedere Un pochettino E dopodiché Non saprei Che hai qualche altra idea Non so neanche conto Ci metteremo Quindi per ora Pensiamo a fare queste cose Allora io direi E poi vediamo Cosa super importante Macchina Mi esce questa 18.000 questa Sì L'altro è shoppando Ah ok Invece qua c'è questo Che si è magari anche bellino E queste due Sono entrambe shoppando Ma le moto sono bellissime Ma sono shoppando entrambe Ma siete dei disgraziati Siete dei disgraziati Quindi quelle prendi la macchina Non è che abbiamo molta scelta Vado? Sì 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 Ok Sto arrivando Dove sei? Eh vabbè Ma puoi cambiare colore la macchina Eh vabbè Ma scusate Io sono qua Che sono felice Della mia nuova macchina E guardate che casa Mi devo vedere Vabbè Vabbè Pieni di soldi Ma voglio anche io Pieni di soldi Dove sei? Dove sei? Sto arrivando a prenderti Sto arrivando a prenderti Con la mia macchinina E sei ancora lì Sì Eccomi Dietro di te Brum 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 Ma puoi anche cambiarle in colore La macchina? Credo di sì Secondo me dal meccanico Dal meccanico Dal meccanico Andiamo Perché io Avendo Sgommando Scusi in bicicletta Ma povera Ma povera Ti dicevo Avendo provato il lavoro Dal meccanico Mi ricordo che si potevano Cambiare i colori le cose Secondo me Vedi È stato utile Fare il meccanico Sì è stato utile Provare tutti i lavori Ti ricordi dov'è però? Assolutamente no Bravissima Zero di zero Niente Meccanico Era dietro Dove si compra la macchina Ah ecco Sì beh giustamente Ecco la qua Entra sì Buongiorno 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 Non ci fanno cambiare Il coloro alla macchina Scusate dai Devo fare una macchina Un po' più bella di prima Mi prego Mi prego Non mi piace Cambiateci Solo il colore Una verniciottina veloce Ce ne andiamo Non mi piace così la macchina Verniciottina veloce Ce ne andiamo Signora no Signora A sto punto metti benzina Dai siamo qua Vediamo a che serve Anche la benzina Allora aspetta Annulla Ok Ma che bellina che sei Grazie Grazie Anche se mi sono spariti i capelli Però sto sempre felice Eh lo so Sempre felice Qualsiasi cosa succede Allora Siamo nel fast food Perché io prima detto Cassieri ma in realtà Lavoriamo nel fast food Facciamo i cassieri Il cassiere al fast food Questo è in assoluto Il lavoro migliore La cosa migliore È farlo da solo Facendo tutte e quattro le casse Perché è facilissimo da fare Se vedete in basso La mia promozione prossima È 154 Da quanto l'ho lavorato In questo posto E si fanno un sacco di soldi Allora tu fai i due di destra E gli facci i due di sinistra Perfetto Perfetto Allora lei vuole Inizio 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 Oh no scusi Ma perché mi fa la faccina A tre di sistema È perché se non ti muovi Se ne vanno Non hanno voglia di aspettare Tutto il giorno qua Lei mi sembra uno simpatico Vuole un double burger Tenga lei Ok È felicissimo La cosa più bellina È che gli metti Le cose nel vassoio È troppo carino Sì E comunque contando Che devi solo selezionare le cose Quindi non devi fare niente Di fisico Come in altri lavori È davvero davvero veloce Se siete veloci Usare tutte le casse Cioè si fanno davvero Un sacco di soldi Quindi io consiglio Vivamente questo lavoro E mi stai rubando le casse Non capisco perché Vanno tutti da te Vedi che vanno solo lì a destra Sai perché? Per questa faccina Per questa bellissima faccina Oh finalmente un cliente per me Allora vuole il deluxe burger E poi anche una coca cola È soddisfatta Guardi che buono Sembra di ottima qualità Vada È felicissima lei Delicious Hai visto come era felice Double burger E poi una bella coca cola Perché comunque Aveva buttato giù Un panino così grande È certo Testi Fanno troppo ridere i commenti Che fanno i clienti Come che le si vede Wonderwall Cioè sono sempre Ma li vediamo In video diversi Eh sì Hai visto awesome? Sì Rubo un cliente Non ci prova Allora Adesso ti metto tutto Allora Facciamo che Lasciami in pace Hai visto? Miettanti permessi Sì No Ti ho reso Change permessi Nessuno Quindi per me adesso Sei nessuno C'è un limite a tutto Guarda Ok che ti ho rubato Un clientino Però c'è un limite a tutto No no Mi hai trattato davvero male Non si ruba il lavoro Ma che hai trattato male Vieni qua Facciamo a botte Guarda Sì Andiamo in palestra E facciamo a botte Mi piace come idea Ti piace? Dopo che finiamo di lavorare Andiamo in palestra E ci facciamo a botte Un cacciottone Quella faccia felice Non ci sarà mai più Guarda No Sarà sempre felice Mi dice Fatti guardi i clienti Tutti da me Giustamente No no Adesso stanno avendo Anche spesso da me L'ho preso io Ti sto uccidendo Ti sto uccidendo Classico Su brutto e disgraziato E prendo tutti i clienti Sì perché? Perché sei scarso E sei geloso che i clienti Invece a me dicono Tutte cose belle Adesso io però Io però di fatto Vedo tutti i clienti felici Con me Perché li prendo tutti io Olè Preso anche questo Come ci si sente adesso Mia cara? Ci vediamo dopo in palestra Vediamo come ti sentirei tu Con la faccia tutta gonfia Guarda Mi stai minacciando Come ti sentirei tu Vediamo proprio come ti sentirei tu Sì esatto Guardami negli occhi Guardami negli occhi Ti rubo i clienti Dove sei? Indovina Dove? Indovina Cosa sta facendo? Mi sto allenando A darti i pugni Sto già facendo L'allenamento duro Per capire come darti i pugni E stenderti Pensi di essere più forte di me? Sono più forte di te Guarda chi muove di più il sacco Ma stai dito Non c'è paragone Più forte di te Sono più forte Lo sto per bucare Ma guarda Io sto per sfondare il muro E farlo uscire fuori dalla porta Scusami eh Ma guarda Sono più brava di te Ascolta Sono più brava Intanto prova a dare pugni Ma ad alzare questi pesi Ne sei in grado? Ma guarda Guarda Tutti li faccio Senza neanche una goccia di sudore Senza neanche un minimo da fanno Proprio zero di zero Perché guarda È come sollevare delle piume Per i miei muscoli Sì sì Infatti ti stavi riposando Quindi Adesso ti riposi pure tu E li stanca No no guarda Io non mi riposo mai Stai zitta Non mi riposo mai Scusa Tu a quanto sei di livello? Mettiamola così Ah Ce la giochiamo così? Eh sì Ok Chi è più alto vince Ok Pronta? Vai Allora Skills Quasi a tre Io ho il tre già fatto Quindi sono più forte di te Tre 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 Appena fatto Quindi mi dispiace Vedi Comunque ti farei notare una cosa Guarda Hai la scia? Sto puzzando E beh sì Mi sono allenata duramente Hai esagerato un po' Quell'esercizio E mi sembra anche giusto Scusa Cioè Non è che esci molto profumato Dopo che ti alleni per così tanto tempo E ho capito E ho capito però Buongiorno Salve sono arrivata Sa cosa facciamo adesso? Cosa? Steph Chef Mi hanno fatto notare una cosa nei commenti Ok Che se tu togli La S e la T E metti la C e l'H Steph diventa chef Quindi Io sono uno chef Lo commento E quindi adesso Silenzio su di me Ti preparerò un nuovo piatto Che tu non avevi mai visto Ok Sono curiosissima Vada 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 Ti faccio Ma il frigo pieno C'era una torta Non le interessa Mi stavi nascondendo la torta No guarda cosa sto preparando Non l'avevi mai visto questo Perché Mi sono allenato Mentre tu facevi la casa Io mi sono allenato in cucina E ho sbloccato il nuovo livello Per preparare gli hamburger Ma è bruciato Quella hamburger No 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 Adesso lo copriamo E sembrerà un hamburger buonissimo Guarda che belli Che belli Comunque ho capito Perché è una torta nel frigo Perché? E per il mio compleanno Che tra qualche giorno Non me la volevi far vedere No Guarda la vedi lì in alto L'ho vista Ma io davvero Non ho mai avuto a che fare Con quella torta Ah la vedi che c'è una torta Ma sì la vedo Ma Per il mio compleanno Non c'è neanche tra gli ingredienti Vabbè assoggetti hamburger Dai e dai Mi sembra giusto assaggiarlo Com'è? Buono Buono Molto buono Soprattutto le salsine Davvero buono Perfetto Messa al tanto giusto Buonissime Adesso Sai cosa facciamo? Mhm Guarda Ti stupisco Facciamo Ok Entrable mode Ok Ok Seleziono così Guarda quell'albero Che è lì davanti Sì Gli puoi cambiare il colore E la fantasia Ho già capito Sì Ho già capito È fantastico Lo so Allora Metti di quella Perché secondo me Ci avevo capito Letti nel pensiero Proprio non so come Ti piace? Sono bellissimi Cioè Ma sono troppo carini colorati Ci dà la possibilità Di fare roba fantastica A Redanno Infatti ci tengo a precisare Prossimo episodio Se volete ragazzi Lo ribasiamo Sul costruire E cerchiamo di migliorare La mia casa Quindi Perché comunque ci sono un po' di difetti Magari la allarghiamo un altro po' Sistemiamo la forma E cerchiamo di arredare tutto Ho speso Esci dalla build mod Ho speso 18 mila Oh mamma mia Oh che bella Yeee Però aspetta Posso usarle le cose? Credo di No Non so se sono Conquilina o altro Bellissima Questa paperella Non mi ci fa interagire Neanche a me E neanche nel trampolino No però è bellissima Bellissima la paperella No hai fatto bene La paperella è la cosa più bella Eh ma costava 6 mila Solo quella 9 mila 9 mila Eh capito Eh vabbè dai Però almeno è carina Quindi di lato positivo Ora abbiamo la piscinetta Qua bisogna fare un recintino Mettere un po' di luci Vediamo se almeno le luci Riesco a farle Aspetta Anche perché c'è troppo buio Troppo buio questo giardino Davvero troppo buio Mi stai insultando No ti sto dicendo Sto constatando Che è troppo buio Sì sì Non si vede nulla Sempre a far notare i difetti Ci sono le luci da giardino Queste? No le prime Nella prima fila le vedi? Quelle Quelle Questa? No quella a fianco Questa? Quelle sono le luci da giardino Ah ok Sono quelle basse Hai capito? Ci sono anche in The Sims Sì Poi ne mettiamo una qua Una qui E una qui Ok fammi arrivare Vediamo se così va meglio E buca fuori quando costruisci Sì dai Molto meglio Guarda È già più bellino Tutto illuminato anche di notte È molto più carino È già più bellino Ma sono anche gli ombrelli Non gli avevo gli stivellini Però non ci sono gli strai Però vabbè Sì ci sono Eh no Non sono lì in quella sezione Capito? Sono nel comfort Mi pare Nella sezione comfort Aspetta allora che li aggiungiamo anche quelli Oppure dove ci sono le sedie Qualcosa del genere Prova comfort Giù 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 È su chairs? No No su comfort Fila più di me Questo ho tutto Comfort Ed eccoli là Queste? Sì Ci sono di tutti i tipi Scegli quello che vuoi Guarda così Promosso decisamente Direi che per questo episodio ragazzi Ci fermiamo così Quindi nel caso Nel prossimo Cerchiamo di arredare davvero bene Anche perché ci sono un bel po' di cose da aggiungere Tipo la porta da calcio Tutti gli strumenti musicali Arredare tutta la casa Con le cose un po' più di lusso Che anche la tua casa Non è minimamente completa Fare il garage per la macchina Perché anche la macchina Deve avere il garage Insomma abbiamo un bel po' di cose ancora da fare Nel caso le facciamo il prossimo episodio Speriamo che vi sia piaciuto questo video Nel caso lasciateci tanti likes E scrivete un sacco di commenti Per ragazzi Lui ci sono così Se ci sono lasciateci un bel like E se la prima volta che avete il nostro video Potete considerarli da di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao